...tank gli inculeranno brutalmente eh 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 stupide eh 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 non lo so devo quaxare su a un non lo ricordo su a una bot sei sicuro? questa è la F è la Q o la B? ok ok ma la region è altissima no le scene no un figlio di puttana si arriva le scene drop occhio va bene va dentro la giungla oppure bot ok l'altare il fura p fa male va con il fura è chiaro il fura è chiaro adesso mi falce prendo l'altare le scene all'altare loro non mi ha mandato il knight porco dio ammazza buonissimo no no non quello di giro è riuscita a shieldarsi malgrado fosse stunnata però ok a me non mi ha fatto il knight se no moriva anche dai si il lo il è il 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 questo è si il 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 signo non solo ve si è andato a prendere la cura a mid dovrebbe arrivare top dio porco ma come lei si salva da un colpo di torre lei si salva ai colpi di torre in una maniera ignobile come cazzo l'ha ammazzato? non lo so per laggi un culo io so solo che sei salvata a un hp si per la seconda volta si no ma è bello che poi gli è arrivato un colpo di torre mentre era un hp ma si è salvata comunque non ho capita come si è salvata arriva in di merda devo arrivare al 6 poi posso dire qualcosa forse c'è le signo ci sono anch'io c'è anche il zero arriva Ivan non ho più umano non ho più umano non ho più umano che devo reccare a chi occhio io devo reccare a chi occhio ma ulti l'ho già usata la passiva segreta ma non così segreta allora io ho la ultima adesso non libero non esagerare e c'è ancora la troia uh adesso ci sono anch'io dietro stunna 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 stunnate bene bene si moltissimo ma le si no no c'era la registrazione lì questo è un mind stelle minnoe beh si è vero è vero ma basta che fai solo quella se la metto nei link di KS mi sta arrivando mi sta arrivando mi sta arrivando mi sta arrivando arriva lì vento seguo mi sta arrivando mi sta arrivando a io morirai 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 stancare io sto arrivando se riuscite ad aspettare me siamo più fuori andiamo su su e giù cos'era un codice dd della playstation vai ora o non andate più mi sta arrivando mi sta arrivando eccola qua non ho l'ultima ma non ho l'ultima come io? che c'è qui sotto? che c'è qui sotto? qui non è morto qui non è morto vediamo l'altare no le sin che è morto no si non esageriamo arriveranno imbuffaliti qua è scoperto e siamo fissati guardo se arriva l'essente io posso grabarla se viene avanti l'essente le sei no non avevo l'ultima lol mi è tornata adesso no lì verso mia no vaffan... no non dategli una tripla non dategli una tripla non dategli una tripla avevo un cooldown due skill avevo detto che dovevate venire via perchè esagerate venite via vi prendete degli item io sono rimasto lì perchè è rimasto lì lui eh appunto è lui il coglione no liberse questa 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 è una ranked non qui sei qui ma si perde una normal chi se ne frega ma è una ranked perchè in normal fai peggio adesso perdiamo due torfi ed altare io bestia questa puttana è il vantaggio grazie guarda bella sarà il loro ancora bloccato allora gli inculerei la giungla che è bene è bellissima non so la Q, c'è di bene E perchè... Gli stiamo regalando kill a quella Riven e A7! Non la fermi più! Sì, ma non cigolare! C'è una cosa che non sopporta è perdere contro Riven! Mister, sbatto la faccia sulla tastiera ripetutamente e faccio cose! C'è il problema che si arriva a sbattere sulla faccia quando si ha usato tutte le skill per fare kill prima? Sì, perchè se noi ci si levasse dal cazzo quando ci si potesse... Potrebbe levare dal cazzo, non farebbe le pentakill così! O sbaglio! Eh, vaffanculo allora eh! C'è un doppio del mio farm! Eh, si è preso tra mia giungla, che bello! Eh, provo a prendere l'altare! Ma porco! Potremmo prendere anche quello dopo! Vedo che una è morta! Mi seguo! Fatti ingaggiarla! La possiamo ammazzare! Ci sono tutte le ulti! Stanno io! No, no, via, via! La arriva sua racca! Via, via, via! Libera su una volta! No, cazzo! Aspetta i secondi! Due secondi! Eh, ho flashato! torre come l'hai uccisa te non so se ce la facciamo io nel caso ho l'ultima, occhio che potrebbe lasciare un'altra l'unica cosa che devi fare è stunnare e andare via via ecco la giungla no 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 ci si fa io l'ho ok c'è solo ci so anch'io, ingaggia la ok c'è ok c'è ok c'è ok c'è ok c'è non ci arriviamo in tempo proviamo stai decallando, to the bot to the bot no top eh tardi si la stunna la stunna la nooo è ovvio stanno respawnando io ho duemila gold farei un campo e tornerei in base quindi occhio a chi sei da solo qui c'ho un archetto da prendere in base dai al mostro ma io posso prendere un gioco di fungetto capire il difesa pietro ora posso prendermi un gioco li verso via li verso via li si sopra di voi e non è da solo c'è anche riven occhio qui io sto arrivando da sopra non te la prendi vendicati adesso il limitor top ah tutti li ammazzati io ho che non morisci inibitor top o baron li bastere callano o si fa l'inibitore ok andiamo a fare l'inibitore occhio soraka che arriva eh 10 secondi non so che ce la facciamo ma ho la ultimate nel caso 9 secondi 7 6 ho messo in vivo l'altra farà via 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 no cazzo ma stai buona uuuu yango no 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 perchè a Jordan non gli da? panico ho finito le bozzoni ti piacevano i cinguetti Aki? si un colibri miss a rivendi ah no è morta ok ecco perchè è missa mi sembra un ottimo motivo per miss comunque sto lesi nel 09 per fortuna che cosa bella che cosa bella e noi abbiamo dei minion che stanno vincendo la parità da soli ma ma non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma la ultima vieni qua vieni qua vieni qua no 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 non mi non mi non mi l'ha stonata non mi l'ha stonata non mi l'ha stonata porco di dio ah secondo me secondo me non ci ha capito niente mi è rimasto un attimino di sasso che cazzo hai fatto a flashare dall'altra parte 8 metri di muro che metri sottive che metri sottive muori 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 muo non muori Occhio a Sodaka Ma quanto è bello ho Mumu in questa parte C'è ci sono un sacco di item che danno OP e armatura in questo gioco Ma Mumu nel debut è OP Ma ho tipo 200 di armatura e un sacco di item Adesso mi faccio il V-Jet Eh che no, non me lo faccio il V-Jet, vinciamo prima Arriveva Vivi in arrabbiatissima Guarda, non fa tempo Tocca a fare un'altra